Prima di essere un ospedale cattolico, il Bambin Gesù è una famiglia, una testimonianza di umanità in cui il malato è amato e parte di una comunità. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Auletta Paolo VI un gruppo di ragazzi ricoverati all'ospedale pediatrico di Roma, protagonisti della serie televisiva I ragazzi del Bambin Gesù. Entrare in un ospedale sempre fa paura. Io lo vedo quando mi avvicino alcuni bambini, non tutti, ma alcuni piccolini che mi vedono in bianco, incominciano a piangere, pensano che fosse il medico per fare il vaccino e piangono, hanno paura, poi le fanno due carezze e si tranquillizzano. Ma perché sempre è la funzione, l'ospedale si deve fare questo. C'è il pericolo, il rischio di dimenticare la medicina più importante che soltanto una famiglia può dare, le carezze. le carezze. Il bambino Gesù in questo tempo ha cresciuto tanto, ha cambiato tanto e diventa più volte una famiglia più, no? E chi porta, l'hai detto a te, no? Il bambino malato trova una famiglia.